Un'esperienza di vita indimenticabile che non deve finire. E' questa la speranza dei talenti di Emilab, la rete di giovani baresi, che ha accompagnato Michele Emiliano nella corsa verso la rielezione, realizzando una campagna elettorale fresca ed innovativa, ispirata al modello Obama. Che esperienza è stata? È stata un'esperienza bellissima, sfiancante, perché abbiamo lavorato veramente tanto, spesso fino alle 4 di notte. Però è stato bello, perché comunque lavoravamo tra giovani, eravamo tutti più o meno della stessa età, quindi anche un carico di lavoro pesante lo riuscivi a gestire piuttosto bene. Abbiamo organizzato una giornata di street art, partendo dal presupposto che la scena del writing a Bari è una scena molto valida e che invita ormai da 20 anni. Il laboratorio di idee, che ha permesso a 150 giovani di avvicinarsi alla politica in modo originale, vuole proseguire nell'affascinante avventura, convogliando il proprio impegno in nuove sfide. I ragazzi di Emilab, infatti, hanno consegnato nelle mani del sindaco 30 progetti da realizzare nei prossimi 5 anni di governo cittadino. Nicolò Accettura, videomaker di Emilab, ha seguito Michele Emiliano come un'ombra per tutta la campagna elettorale, vero? Dappertutto ed è stata un'esperienza, come dire, fantastica. All'inizio c'erano delle difficoltà, c'erano dei piccoli problemi di organizzazione, di comunicazione noi con l'agenda del sindaco, quindi mi sono trovato molto spesso a dovermi svegliare alle 10 e mezza della mattina di domenica volando da tutte le parti della città, però poi alla fine questa odissea è stata premiata. Abbiamo messo insieme questo laboratorio che ha prodotto sia comunicazione che progetti per la città. Che esperienza di vita è stata? È stata un'esperienza incredibile, io non ho mai fatto una simile. Ho conosciuto un sacco di persone interessantissime con cui voglio lavorare nei prossimi anni, ho conosciuto la politica dalla parte più bella.